Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video! Questo sarà un video differente dai video del mio canale, non sarà una lezione di grammatica, non sarà un vlog, non sarà un gioco di lingua, sarà tutt'altra cosa. Però per chi sta imparando l'italiano può essere comunque un ottimo esercizio per praticare l'ascolto della lingua ad un livello intermedio avanzato. Il video di oggi, come avrete probabilmente capito dalla thumbnail, è un video in cui vi parlerò di un prodotto che ho appena comprato e che sto adorando. Tengo a precisare ovviamente che non si tratta di alcun tipo di sponsor, perché stiamo parlando di una marca abbastanza grande ed importante. Semplicemente è un prodotto che ho notato la settimana scorsa e ho iniziato ad informarmi, ho visto che mi sarebbe potuto piacere e per questo motivo ho deciso di comprarlo. Poche volte mi succede di essere così entusiasta quando si tratta di comprare qualcosa e ahimè quando succede si tratta sempre di prodotti tecnologici e alcune volte piuttosto cari. Anche se devo essere sincera, il prodotto di oggi, nonostante sia un po' caro, secondo me ha un prezzo il cui valore corrisponde a quello che effettivamente il prodotto offre. Ad ogni modo, bando alle ciance, passiamo alla descrizione del prodotto in questione, ovvero questi Smart Glasses della Ray-Ban, i Ray-Ban Meta. Questa è la custodia dei Ray-Ban. Come vedete qui c'è questo pulsantino e se io apro l'occhiale, vedete che si illumina, questo sta a significare che la custodia è carica. Qui sotto invece c'è la porta USB-C per caricare la custodia. La custodia impiega circa tre ore e mezzo a caricarsi. La custodia è quello che carica poi gli occhiali, ovvero noi inserendo gli occhiali andiamo a ricaricarli. Se voi vedete qui infatti, è dove si posiziona l'occhiale per poi caricarlo. Con una carica completa della custodia possiamo ricaricare gli occhiali fino a 32 ore di carica. Per ricaricare gli occhiali da 0% a 100% abbiamo bisogno di circa 75 minuti. Per raggiungere il 50% di carica degli occhiali, invece sono necessari circa 20 minuti. La durata degli occhiali con un uso moderato è di circa 4 ore e mezza. Se invece le facciamo un uso leggero, possono durare anche tutto il giorno, tranquillamente 8 ore o più. Io in questa settimana li ho utilizzati e per esempio durante il weekend uscivo la mattina con gli occhiali, ascoltavo un po' di musica con gli occhiali, ho scattato qualche foto, ho fatto qualche chiamata, ne ho fatto un uso dal leggero al moderato e sono arrivata la sera che rimaneva ancora della batteria. Ora che abbiamo parlato però della custodia e della carica, direi che possiamo passare all'argomento principale, ovvero gli occhiali. Io ho comprato il classico modello Wayfairer in nero brillante. Ci sono poi anche altri modelli, potete comprarli come occhiali da vista, farli calibrare a seconda delle vostre necessità. Ci sono altri colori come per esempio anche il nero opaco e mi pare che ci sia anche il modello Headliner. Io preferisco il modello Wayfairer quindi ho comprato questo, il classico. Gli occhiali sono molto leggeri, pesano circa 48 grammi. Io personalmente non noto grande differenza con il peso degli occhiali che ho, degli altri Ray-Ban che ho. Io trovo che siano fumodissimi, si adattano molto bene al viso e ci sono differenti taglie. Io ho comprato la Small e per me è perfetta. Mi hanno detto che non è possibile aggiustare come si fa con gli altri occhiali per renderli più stretti oppure più larghi. Hanno detto che questo potrebbe danneggiare l'occhiale, il sistema che c'è all'interno dell'occhiale. Io non so se è stata semplicemente una cosa che mi hanno detto nel negozio della Ray-Ban qui a Malaga oppure se anche in tutti gli altri negozi diranno lo stesso. Però non c'è stato problema perché appunto trovo che siano particolarmente comodi. Passiamo adesso alle funzionalità. Quando ho visto la pubblicità di questi occhiali, il cartellone di questi occhiali, io pensavo che la funzionalità fosse semplicemente quella dello scattare le foto e registrare video. Ovviamente questa forse è la funzionalità principale, ma in realtà ha tante altre funzionalità che io adoro e trovo particolarmente utili ed efficienti. Iniziamo però con la funzionalità principale e forse più conosciuta che è appunto quella di scattare foto e registrare video. Gli occhiali hanno una fotocamera da 12 megapixel. Ovviamente non è paragonabile alle fotocamere che abbiamo negli smartphone, però comparato al modello precedente, il passaggio a 12 megapixel è stato un passaggio direi notevole. Le foto che scatta, infatti, sono foto di buona qualità, così come le registrazioni video sono di buona qualità per essere degli occhiali smart. È ovvio che se volete scattare una foto ben fatta, che poi magari volete stampare, vi consiglio direttamente di farlo con l'iPhone, con lo smartphone o con la macchina fotografica. Però se state camminando o se siete ad una festa o se siete a pranzo con degli amici e volete scattare alcune foto per ricordare quei momenti, ma non avete il cellulare a portata di mano, non avete il cellulare in borsa, non avete voglia di prenderlo, allora in questo caso questi occhiali vi aiuteranno tantissimo e la qualità della foto sarà comunque una qualità buona. Le foto e i contenuti sono però scattati e registrati in formato verticale. Purtroppo, quindi, non è possibile registrare nel formato orizzontale. Dunque, se voi comprate questi occhiali per creare dei contenuti per YouTube, non ve lo consiglio a meno che voi non pubblichiate soltanto shorts. Sono degli occhiali che possono essere molto utili nel caso in cui voi vogliate registrare contenuti per Instagram, TikTok oppure Facebook. Ad ogni modo la qualità non è neanche ideale per un video di YouTube dove solitamente ci si aspetta magari una risoluzione un po' più alta. Però per aggiungere alcuni dettagli, alcune particolarità, alcuni aneddoti alle nostre clips di YouTube, allora sicuramente è possibile utilizzarli. Vediamo però adesso come si creano questi contenuti. Se io indosso gli occhiali, sento un suono. Probabilmente voi non lo avete sentito. Significa che ho finalmente gli occhiali e ho accesso alle funzionalità. Abbiamo due modi per scattare foto o registrare video. Si può fare attraverso l'utilizzo di questo pulsantino. Se invece quello che vogliamo fare è registrare un video, ritorniamo su questo pulsante e lo teniamo premuto. Come voi vedete si è illuminata una luce. Non è molto visibile, però se si fa attenzione si può notare. Ecco perché questi occhiali durante il giorno sono degli occhiali che possono passare inosservati. Già per esempio la sera in un locale chiuso si può notare un po' di più, ma non si nota comunque tanto. Questo a mio parere penso che sia importante perché almeno le persone che sono intorno a noi sanno che stiamo registrando. Ed ovviamente bisogna fare molta attenzione quando si utilizza questo tipo di prodotto perché appunto dobbiamo stare attenti a non violare la privacy, altro way, in quanto si può registrare un po' tutto quello che noi vediamo. Comunque ritornando al suo utilizzo, dicevamo scattare la foto così e registrare così, tenendolo premuto. Come si fa ad interrompere un video? Semplicemente dobbiamo premere una volta. Infatti se voi lo vedete io premo e la luce si spegne. C'è poi un altro modo per scattare foto o registrare video ed è attraverso il controllo vocale. Al momento è possibile dare indicazioni in lingua inglese. Ci sono anche altre lingue come l'italiano ed il francese ma non è ancora possibile utilizzare tutti i comandi vocali. Semplicemente da quello che io ho potuto testare la scorsa settimana, in italiano è possibile scattare foto e registrare video. Però altri comandi vocali come il chiedere di fare una chiamata oppure il chiedere il tempo nella propria città non è possibile attraverso i comandi vocali. È possibile solamente in inglese. Come funziona però questo sistema vocale? Semplicemente bisogna dire questa frase. Ora vi faccio vedere il mio avvicino di modo tale che voi possiate vedere la luce. Hey Meta, take a photo. Ha appena scattato una foto. Oppure Hey Meta, record a video. Avete visto che si è accesa la luce della registrazione. Ora sta registrando e per interrompere la registrazione io posso dire Hey Meta, stop recording. Ha smesso la registrazione. Vedete che la luce è infatti spenta. Quindi potete scegliere se utilizzare il controllo manuale oppure il controllo vocale. Io molto spesso personalmente preferisco il controllo manuale. Lo trovo un po' più semplice ed immediato. Questi occhiali hanno 5 microfoni. Dunque se si parla al telefono la qualità è davvero ottima. Tutte le persone che io ho chiamato con questi occhiali mi hanno detto che la qualità dell'audio era eccellente e si sentiva molto bene. La presenza di questi 5 microfoni rende l'audio davvero ottimo a 360 gradi in quanto sono posizionati in differenti parti dell'occhiale. Questa è una registrazione attraverso i miei Airpods Pro. Adesso passerò gli occhiali di modo tale che possiate ascoltare la mia voce attraverso quelli e vedere o notare se ci sono delle differenze. Questa è la registrazione attraverso gli occhiali. Non so se potete notare differenze con l'altro audio non so se preferite uno rispetto ad un altro. Io personalmente preferisco la registrazione attraverso gli occhiali. Trovo che la voce sia più chiara più alta più facile da comprendere. Allo stesso modo l'audio che noi sentiamo che ascoltiamo anche quello è ottimo. Infatti gli altoparlanti integrati permettono di ascoltare musica o di fare delle chiamate di ricevere delle chiamate in maniera ottima a mio parere. Per questo motivo si possono utilizzare tranquillamente come degli auricolari Bluetooth. La differenza però è che contrariamente agli Airpods Pro o altri tipi di auricolari e di cuffie non è presente la cancellazione del rumore. quindi voi continuerete a sentire il rumore però la qualità della musica oppure delle vostre chiamate è comunque davvero buona. Quindi se voi per esempio siete in un ristorante e volete ascoltare musica non ve lo consiglio perché appunto non c'è la cancellazione del rumore però se state passeggiando se siete in casa se siete sul vostro terrazzo invece ve lo consiglio assolutamente. Come si ascolta la musica però? Anche qui ve lo mostro. Per ascoltare la musica quello che dovete fare è tenere premuta questa parte degli occhiali. Per alzare il volume dovete muovere il dito in questa direzione oppure potete muoverla nella direzione opposta per abbassarla. Per pausare quello che potete fare è cliccare una volta. Se invece volete passare alla canzone successiva dovete premere due volte. Se invece volete tornare alla canzone precedente dovete premere tre volte. voglio precisare che da quanto ho letto questa funzionalità è solo possibile per chi ha un account premium di Spotify. Attraverso questo clic o tap che noi facciamo per ascoltare la musica Spotify ti inizierà a consigliare delle canzoni in base ai tuoi gusti personali. Quindi andrà a selezionare tra le tue canzoni preferite o tra quelle che tu hai ascoltato maggiormente. Continuiamo con gli utilizzi. L'altro utilizzo è quello di fare le chiamate. E secondo me è un utilizzo fantastico perché devo dire che è particolarmente bello chiamare qualcuno senza indossare auricolari senza avere il telefono qui semplicemente camminando con i propri occhiali da vista addosso. La chiamata vocale può avvenire attraverso l'utilizzo dello smartphone ovvero semplicemente selezionando chi vogliamo chiamare su WhatsApp o come chiamata normale oppure anche qui dando l'indicazione vocale ovvero dicendo hey meta call e poi la persona che vogliamo chiamare. In questo caso io preferisco fare questa cosa manualmente perché ho alcuni contatti che sono salvati in italiano o in spagnolo e vengono pronunciati in un'altra maniera quindi per esempio se io ho un contatto salvato come ale in inglese io dovrei pronunciarlo come ale quindi è un po' strano al momento fare chiamate attraverso il comando vocale frisco semplicemente prendere il telefono chiamare e poi da lì l'audio va sui miei occhiali e posso fare le chiamate chiamate come vi dicevo possono essere fatte sia su WhatsApp che come chiamata normale un'altra funzionalità molto bella è quella di fare live stream direttamente dagli occhiali ovvero indossando gli occhiali io posso fare una diretta al mio Facebook o al mio Instagram in questa maniera le persone nelle mie dirette potranno direttamente vedere quello che io sto vedendo attraverso i miei occhiali all'interno degli occhiali c'è anche un sistema di intelligenza artificiale attraverso il quale noi possiamo fare determinate domande è possibile per esempio chiedere come è il tempo qui a Manalek come è il tempo a Los Angeles e si fa semplicemente così anche qui si indossano gli occhiali e si domanda Hey Meta How's the weather in Malaga? Ha appena detto che è soleggiato e ci sono 66 gradi Fahrenheit utilizza l'inglese nella risposta e utilizza i gradi in Fahrenheit immagino che quando sarà possibile fare questa domanda in italiano si utilizzeranno probabilmente i gradi in Celsius e la risposta ovviamente sarà in italiano guardando differenti video in merito a questi occhiali ho visto che ci saranno poi degli update attraverso questi update sarà poi possibile osservare un edificio e chiedere di che edificio si tratta e gli occhiali ti daranno delle informazioni in merito a quello che tu stai guardando proprio grazie all'intelligenza artificiale sempre grazie a questo sarà possibile tradurre cartelli segnali qualsiasi cosa che noi vedremo di fronte a noi quindi se vediamo un cartello in portoghese e vogliamo tradurlo possiamo chiedere agli occhiali di tradurlo e ci dirà la traduzione attraverso l'audio questo non è ancora presente negli occhiali ma a quanto pare sarà presente in futuro c'è un'applicazione dove voi potrete scaricare tutti i contenuti molto facilmente sull'app questa applicazione si chiama MetaView ora vi mostro un po' come funziona l'applicazione di MetaView come vedete qui siamo sull'home page abbiamo differenti opzioni per esempio imparare a scattare foto o a registrare i video qui a destra invece possiamo andare a personalizzare le varie impostazioni questo lo vedremo tra poco nel dettaglio qui in basso invece ci spiega come funzionano le dirette live infatti ci mostra anche un po' come si vede una diretta attraverso gli occhiali torniamo qui sull'home page se andiamo in basso dove c'è la rotellina accediamo alla nostra home page qui in alto possiamo vedere la batteria degli occhiali che al momento è del 97% sotto poi ci sono varie impostazioni come la privacy voglio soffermarmi sull'impostazione della voce qui possiamo andare a personalizzare i nostri voice control come vi dicevo qui io ho impostato la lingua inglese sotto abbiamo differenti toni di voce possiamo scegliere un tono più basso un tono più caldo un tono più acceso un tono più alto e possiamo cambiare la lingua andare sul francese o l'italiano come vedete appunto ci sono soltanto alcuni comandi vocali disponibili non tutti allo stesso modo non ci sono tutti i toni di voce che abbiamo invece per l'inglese torniamo indietro qui invece abbiamo la parte relativa alle chiamate ed ai messaggi potete connettere gli occhiali al vostro telefono a whatsapp e a messenger per quanto riguarda la musica potete attivare il spotify tap che è quello che vi ho mostrato ovvero tenere premuti gli occhiali e accedere direttamente alle vostre canzoni preferite su spotify poi qui c'è la sezione dell'aiuto e del supporto qui in basso invece possiamo andare a personalizzare le notifiche alcune informazioni relative al wifi e altre cose che sono un po' più tecniche che sono relative un po' a tutte le applicazioni ci tengo anche a mostrarvi il pulsantino qui in basso a metà nel mezzo qui abbiamo la nostra galleria come vedete qui ci sono i contenuti che io ho girato e che i video che ho registrato le foto che ho scattato possiamo infatti accedere a uno di questi possiamo premere play e visualizzarlo di nuovo o possiamo addirittura condividerlo attraverso i vari canali social solitamente quando voi dovete scaricare dei contenuti vi apparirà una piccola finestra in alto che vi dirà appunto di importare i contenuti presenti sulla memoria degli occhiali al momento io ho scaricato tutto quindi non c'è bisogno di importare niente e non si vede questa finestrella direi che più o meno è tutto per quanto riguarda gli occhiali e questa applicazione ora torniamo al video principale ricapitoliamo dunque tutte le varie informazioni abbiamo la custodia che si carica in tre ore e mezza ed ha una durata di carica di 32 36 ore gli occhiali all'interno invece si caricheranno in 20 minuti al 50% o in 75 minuti al 100% la batteria degli occhiali a uso moderato dura circa 4-5 ore ad uso leggero tranquillamente 8 ore tutta la giornata ha una fotocamera di 12 megapixel con cui è possibile registrare video di 60 secondi a 1080 oppure scattare foto attraverso gli occhiali è possibile fare dirette live su facebook ed instagram mostrando direttamente quello che noi vediamo attraverso questa lente quindi il nostro point of view è possibile chiamare le persone su whatsapp o tramite chiamata normale attraverso i 5 microfoni e gli altoparlanti integrati con una qualità ottima dalla nostra voce non abbiamo però la cancellazione del rumore ad ogni modo è possibile ascoltare molto bene l'altra persona è possibile collegare questi occhiali a spotify e attraverso un tap prolungato possiamo ascoltare le nostre canzoni preferite e muoverci attraverso differenti taps tra una canzone e l'altra direi che più o meno abbiamo coperto tutto per quanto riguarda questi occhiali io personalmente li adoro li trovo molto belli e molto comodi esteticamente adoro la possibilità di fare e ricevere chiamate con un ottimo audio senza dover utilizzare auricolari o senza dover tirare fuori il telefono adoro la possibilità di ascoltare la musica anche qui senza auricolari dentro l'orecchio semplicemente passeggiando con i miei occhiali per strada ovviamente adoro la possibilità di scattare foto e registrare video in qualsiasi momento quindi se vedo una cosa che all'improvviso cattura la mia attenzione posso registrarla o scattare una foto nel momento esatto in cui la vedo senza dover prendere il cellulare senza dover perdere tempo e quindi rischiare di perdere il momento abbiamo finito qui con questa recensione di questi occhiali il prezzo degli occhiali almeno qui in Spagna va dai 329 euro in su a seconda del modello o della maniera in cui si decide di personalizzarli io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se voi avete questi occhiali oppure se pensate di comprarli se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale io vi ringrazio tanto per averlo visto e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video a presto a presto